ben trovati in nuova settimana che comincia nuova settimana che comincia in compagnia di legal community una settimana intensa ci sono un po di appuntamenti che ci porteranno a incontrarci a milano in giro per l'italia perché a milano il prossimo 8 giugno ci sarà il pre opening della legal community week dove ovviamente siete tutti invitati a partecipare sarà una week spettacolare dal 13 al 17 di giugno con tantissimi convegni tavola rotonde in cui tratteremo diciamo tutti gli argomenti principe dell'agenda del mercato dei servizi legali in questo momento ma avremo anche dei momenti ludici dei momenti di convivialità e di come dire svago da trascorrere assieme dalla run al famoso oramai corporate music contest rock the law per cui non mancate e seguitici in più per tutti coloro i quali stanno leggendo hanno letto vogliono leggere vogliono approfondire quali avvocati e troppi avvocati come sapete abbiamo pubblicato questo saggio congiunto questo cofanetto diciamo così che ha ripubblicato troppi avvocati di piero calamandrei del 1921 assieme a un mio panflet attuale che ragiona a 100 anni di distanza sulla questione quantitativa la questione del cosiddetto troppismo forense appunto a un secolo di distanza dal libello di calamandrei bene il 9 giugno sarò a roma a parlarne assieme a un parterre di professionisti di primo livello ospitato dall'avvocato giorgio fraccastoro al circola niene e poi il giorno seguente sarò a bari nel pomeriggio alle tre all'università nella facoltà di giurisprudenza a discuterne assieme all'associazione studentesca e assieme anche lì a degli ospiti molto graditi del mondo universitario e del mondo professionale locale questo ve lo dovevo come dire come dato di cronaca utile per le vostre agende a seconda di dove vi troviate ma ciò di cui vi voglio parlare in questo video editoriale è il tema della ricerca dei talenti ancora oggi apro la mia una delle tante newsletter che ricevo il lunedì mattina e uno dei temi che compare e che viene messo in evidenza in questa newsletter che parla di mercato dei servizi legali negli stati uniti è il difficilissimo compito di riuscire a trovare avvocati anche nelle grandi law firm americane che cosa si può fare come si può agire c'è una discrasia l'ho detto più volte tra un certo modello di lavoro di studio legale e un certo modello aspirazione professionale delle nuove generazioni vi do un dato che secondo me ci può far riflettere tutti quanti c'è stata nei giorni scorsi se non ero in australia la prima law firm internazionale che ha nominato partner due soci ammessi a al beneficio diciamo così del lavoro part time questa mossa è stata compiuta perché perché si è voluta andare incontro alle esigenze di vita privata ovviamente di questi due professionisti ma lo si è fatto e questa è la cosa che mi ha molto interessato della comunicazione fatta dallo studio legale da questa law firm lo si è fatto tenendo conto dei risultati di questi professionisti cioè lo studio ha detto questi avvocati nonostante la necessità di godere diciamo così di un tempo più flessibile per la gestione di problematiche private riguardanti la loro vita privata la loro sfera familiare sono riusciti a produrre dei risultati assolutamente in linea con quelle che erano le aspettative dello studio nei loro confronti e pertanto si sono guadagnati sul campo il diritto a diventare soci dello studio è una soluzione può essere una strada da percorrere io dico che è il tempo di cominciare a ragionare a ragionare su modelli nuovi va fatto in fretta non ci si può troppo come dire trastullare perché il tempo corre e il problema di trovare gente che voglia fare l'avvocato voglia farlo veramente voglia farlo per passione ma senza sacrificare a questa passione la propria interesistenza comincia a essere un problema impellente noi ci vediamo lunedì prossimo lunedì prossimo inizia la legal community week ciao